La candidatura di Matera La candidatura di una città medio-piccola che prende consapevolezza e coscienza della sua storia che è una storia antica, però è anche una storia moderna una storia di grandi trasformazioni, di grandi capovolgimenti Matera riesce a diventare in meno di 50 anni da vergogna nazionale, lo sapete tutti non c'è bisogno che la racconti io questa storia l'hanno raccontata anche in questo spazio tanti prima di me Matera è la vergogna nazionale alla fine degli anni 40 per la denuncia di Levi, siamo qua, siamo ad Aliano Levi scrive il Cristo e il Cristo è pubblicato subito dopo la guerra e subito dopo la guerra il mondo non può più chiudere gli occhi davanti allo scandalo dei sassi di Matera e quindi comincia la storia che sappiamo la storia che porta al dibattito parlamentare fortissimo e porta allo svuotamento dei sassi e ha il rischio di perdere una memoria in materia in cui 50 anni diventa patrimonio mondiale dell'umanità e diventa patrimonio mondiale dell'umanità grazie a tante persone come noi qua stasera che prendono coscienza di questo filo che non deve essere interrotto e continuano a portare avanti una storia una storia che per esempio 50 anni fa Pasolini che arriva in Basilicata arriva nel Tadio del Sud invece di andare in Palestina a girare il Vangelo secondo Matteo e poi ve lo dico non a caso alla fine di questo mio brevissimo intervento vi dirò perché ve lo dico arriva anche in Basilicata in Puglia, in Calabria e anche in Basilicata non solo a Matera ma soprattutto a Matera e gira il Vangelo secondo Matteo saluto Pino Pella con lui abbiamo fatto insieme ad altri una cosa molto bella a Matera in queste settimane ecco Pasolini ci aiuta tutti noi quelli di allora e quelli di oggi a mandare Matera al nostro territorio fuori da queste nostre straordinarie terre e far conoscere Matera far conoscere questa storia ecco ci leghiamo a quel filo ci leghiamo a quel momento a quei 50 anni fa quel 1964 con questo progetto questa grande sfida che è una sfida che riguarda tutto questo territorio capitale europeo della cultura perché questo territorio è già in qualche suo modo capitale e il progetto quello che è scritto nel primo dossier quello che si sta finendo di scrivere nel secondo dossier c'è tutto un percorso che prevede dei tempi Matera è passata la prima selezione nello scorso novembre adesso sono sei le città che giocano in questa ultima parte della partita una partita che si giocherà in ottobre sono sei città sei città che comunque sia comunque vada a questa sfida insieme devono costruire un modo di guardare alla cultura diverso e unitario allora l'idea più importante che la nostra candidatura sta rendendo concreta è quello che comunque il programma culturale il processo che si è messo in moto quello che stiamo facendo forse stavamo già facendo deve essere portato avanti e questo la comunità intera lo sta credendo e questo io credo che sia la cosa più importante lo sta credendo e l'ha costruito e lo continuerà a costruire andando oltre l'esame l'esame di ottobre la visita della commissione la scelta poi che la commissione farà di quale di queste sei città sarà nominata capitale europeo della cultura perché abbiamo capito tutti insieme che è un processo inarrestabile che dobbiamo essere comunità pensando alla cultura pensando per quel che riguarda me al patrimonio storico artistico architettonico al paesaggio culturale delle nostre terre io ho sentito le parole delle persone che hanno parlato prima di me ha detto delle cose molto importanti dobbiamo imparare come diceva il vice ministro pubblico a curare a curare il nostro territorio questo è quello che stiamo facendo e credo che la sfida della capitale europea Franco ci sta aiutando molto perché guardiamo oltre guardiamo oltre perché dobbiamo guardare oltre il 2019 quindi questo processo ci porta verso il 2019 ed oltre e la cultura è qualcosa che deve essere davvero patrimonio di tutti e questa capacità di condividere la cultura di partecipare di far partecipare una comunità alla programmazione di questa sfida è straordinaria vi dicevo Pasolini Pasolini questa mostra racconta l'angelo secondo Matteo ed è a Matera Palazzo Alfranchi nel nostro museo io vi invito tutti prima di tornare alle vostre case da dove voi veniate se passate per Matera vi accompagno io domani a vedere questa mostra grazie